Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con questo video diciamo molto speciale Vi avevo detto che a settembre avremmo avuto tantissime novità e questa è una di quelle Allora, che cosa volevo raccontarvi? Vi volevo raccontare appunto che abbiamo noi di VisioTV iniziato una nuova collaborazione con il negozio Ultragame.it Allora, chi sono questi persone di Ultragame.it? Ragazzi sono dei collezionisti, sono degli appassionati come noi che amano tutto ciò che è il nostro mondo Quindi diciamo che tutto quello che vedete sul canale VisioTV più o meno loro ce l'hanno Infatti si occupano di Funko Pop, Lego, Gadget, Figur, veramente di tutto Inoltre sono anche molto specializzati sul videogame e vi assicuro che troverete una grande quantità di videogame Nuovo e usato e soprattutto anche loro trattano il ritiro appunto dell'usato Quindi se avete qualche gioco o qualche figura che volete vendere o che non ci giocate più Potete contrattarli anche in questo caso Inoltre avrete anche diritto ad uno sconto Infatti inserendo il codice VisioTV avrete diritto al 5% di sconto sulla spesa totale che farete sul sito Io ragazzi non solo ve li consiglio perché sono delle persone molto serie, molto veloci nella spedizione Ma soprattutto perché hanno una quantità di merce davvero notevole Peraltro poi sempre in continuo rinnovo con novità, con altre cose che tornano perché magari le ritirano usate Quindi insomma potete trovare davvero di tutto Io vi consiglio di andarci a dare un'occhiata Vi ho lasciato ovviamente il codice sconto e il sito qui sotto Ma vi lascerò anche in descrizione appunto tutti gli altri link utili Quindi mi raccomando andateli a trovare Peraltro poi io in questi giorni sono anche passato a trovarli e mi hanno regalato questa bellissima astronave di Battlestar Galactica E adesso a questo punto ve la faccio vedere visto che ci siamo Ovviamente anche questa la trovate sul sito a 9,90 se non sbaglio Quindi ha anche un prezzo molto buono E appunto ce l'andiamo a vedere Ma prima di andarla a vedere Io come al solito dovete lasciare un grossissimo pollice analizzo E mi raccomando iscrivetevi al canale Vabbè ragazzi quindi vi ho detto diciamo una grossa infarinata ve l'ho data E' una bella novità io sono anche molto contento di questa cosa Perché insomma alla fine è la prima collaborazione Quindi devo essere sincero sono contento E vabbè andiamo ad aprire questa bellissima astronave Ok ragazzi eccoci qui Volevo appunto farvi vedere questa bellissima astronave di Battlestar Galactica Che si chiama Cylon Rider Devo ammettere che io Battlestar Galactica non l'ho vista Però conosco tanti amici che sono molto appassionati della serie Uno addirittura si è visto proprio la primissima Perché questa più moderna Se non vado errato è un remake Quindi insomma esiste anche una serie classica Molto più vecchia appunto Che so che comunque piace davvero a molte persone Qua sul lato abbiamo ovviamente un disegno della nostra astronave Exclusive Cylon Rider Scar Titan Ok Qui dietro abbiamo questo disegno Battlestar Galactica Figure come with display stand Titans vinyl figure Ok qui abbiamo invece una sorta di checklist Anzi no una sorta Una checklist Con tutti i personaggi Dice coming soon Ma io credo che sono già arrivati Sicuramente qualcosa troverete anche sul sito appunto Di ultragame.it Abbiamo l'ammiraglio Atma Saul Tig President Roslin Apollo Shift Tirol Cylon Cylon ovviamente i dattivi Starbuck Gold Cylon Boomer Hello e Gaius Balter Poi scusatemi se ho sbagliato qualche pronuncia Ovviamente vi ripeto Non ho visto la serie Quindi non sono sicurissimo delle pronunce Ma credo che più o meno Siamo là Allora andiamo a scoprire La figure Quindi togliamo Lo scotch qua dietro Vediamo un po' Come è fatta Devo dirvi A vederla così Sembra Molto carina Vediamo un po' Allora Eccola qua Peraltro abbiamo anche Un bel display In cui viene conservata Andiamola A togliere Dalla plastica Eccola qua Allora ragazzi Devo dirvi È fatta molto bene La plastica È una plastica Sembra di ottima qualità E guardate Come è colorata bene Abbiamo questi graffi Che sono scolpiti davvero bene Anche questa sorta di Insomma diciamo Di radiatore Qua abbiamo Questi cannoni Qua sotto abbiamo La scritta Battlestar Galactica Titans Winifigure Ok Devo dirvi È colorata molto bene Perché è questo grigio Metallizzato E sembra anche un po' Sfumato Diciamo perché abbiamo Tutte queste parti di grigio Più scure Che vanno un po' A ricordare una sfumatura Che in realtà Non c'è Però appunto Vedete con queste varie Tonalità di grigio Devo dire che la figura Risulta molto buona Qui abbiamo sicuramente I motori I quali Viaggia nello spazio Ragazzi Molto carina Devo dirvi Niente male Poi insomma Appunto credo che Per gli amanti Della serie Questo possa essere Sicuramente Un bellissimo pezzo Da collezione Poi mi raccomando Insomma Fatemi sapere Se voi che guardate Insomma siete più esperti La conoscete Se volete dirmi qualcosa Che magari io Non ho saputo dirvi Mi raccomando Lasciatemi un bel commentino Poi comunque Qui vedo che abbiamo Anche questo display Che sicuramente Servirà Per l'esposizione Quindi Questa è la base Questo sicuramente Si aggancerà Da questa parte No Forse è il contrario Ok Credo Sì Ok è andata E poi Vediamo un po' Dove si deve agganciare Io direi forse Qua Sul motore Posteriore Ok Sì Guardate che spettacolo Questo piedistallo Perché si va Ad adagiare Si adatta perfettamente All'astronave Guardate un po' Molto Molto carino Questo piedistallo Vedete E la potete Conservare In questo modo Allora io vado A chiudere la scatola Ok Eccoci qui Vabbè Raga Devo dirvi Nonostante Non conosco molto La serie Però posso dirvi Che questa figure È davvero Niente male E dunque Cari ragazzi Anche per questo video È davvero tutto Io come al solito Vi invito ad iscrivervi Al canale Premere sulla campanellina Per restare sempre aggiornati Su tutte le nuove uscite Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Gigantesco Mi raccomando Io vi invito ancora una volta A andare a trovare I nostri amici Di ultragame.it Vi lascio il link Sia qui sotto Sia in descrizione E ricordatevi Del codice sconto Visio TV Per avere diritto A uno sconto Del 5% Sulla spesa totale Qui da Visio È davvero tutto Io vi mando Un grosso saluto Ciao ciao